Ciao, è il 24 e allora auguri! È la Vigilia di Natale! Come al solito ci trasferiamo, immigramio, immigriamo, eh! In mezza la merda stiamo! Stiamo in mezza la merda, che bello! Con la speranza che questo anno sia meno in mezza l'anno. Stiamo andando da mio padre, quest'anno proprio robetta scialla scialla, sugo polipetti, trisse di salse, polenta che poi bisognerà tagliare, bambina con ciucci lunghissimi e con civalli molto fashion. Niente, io e il mio caschetto vi auguriamo Buon Natale! Sottimo, nanzi! Prepariamo i regali e andiamo verso una nuova maniata! Ciao! Mi sa che l'altro anno ho detto la stessa cosa! Che monotonia ragazzi, che monotonia! Ciao! Ciao! Ora è 21.51, io mi sono messa in tuta e le ciabatte dei gattini. So scoppiare. Mo' c'abbiamo piselli e carote e calamari imbottiti, io mi sento molto un calamari imbottito. fai la foto a mamma? Dai, fai il vlog! Dai, fai il vlog! Dai, fai la foto a mammi! No mammi, dall'altra parte! Dall'altra parte! E' perché ci frega quello è del passio di pasta! Dai! Ci frega l'antipasto! Ci frega l'antipasto! No! 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 Nope! Yuck scatta la carta물 cm3 Basta la carta! Scatta la carta! S*** H doch i nonni che cosa gli hanno comprato! Ah, yeh, uula, una di più wowé oddio 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 Eccon ttt, Eccon ttt Gesù maria Esccola Eccola Che bella amici Sei contenta? Eccodotti 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 Che esagerazione Gli regalavano Gli regalavano? Poi non so tipo di Gerardo si è fatto regalare Giusto due brulei E dopo i nuovi giochi Si fa spazio E si buttano quelli vecchi Vero? Gli diamo ai bambini più poveri? Li portiamo alla chiesa? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì sono appena alzata e adesso non c'è perfetti comunque ho anche un bel brucolo stamattina meraviglioso mi accompagnerà per questo santo natale ci siamo svegliate le 10.25 io e Alice perché Gerardo si è svegliato prima e si è messo a cucinare il fantastico Vitellton che uomo ma dove lo provano metto così vero amore dove ti trovo manco nei kinder delle sorprese così belle fanno no davvero e niente Alice buongiorno facciamo il latte mangiamo Alice sei pronta oh che bella ma dov'è la renna la renna di babbo natale Alice ah lì dov'è la renna di babbo natale guardate un po' allo specchio dov'è la renna di babbo natale eh a ca brava mami senti ti piace allo specchio ti piace va bene questo outfit ok dai un bacio alla renna che dolce fanciulla brava la mamma si è messo a questo abitino qua anni 60 e questo stivale che ormai che ormai che ormai conoscete benissimo se oggi va così però se era un po' più ma siamo veramente anni 70 così può papà che c'è che c'è papà che c'è papà sta vedendo un film papone va bene vabbè dai cambiamo che vuoi vedere frozen andiamo stiamo andando da mia suocera ieri non avete visto che eravamo in una casa diversa che non avete mai visto perché mio padre ha cambiato casa vi ricordate dove Alice ha festeggiato questa casetta carina buon natale diglielo buon natale dai olli tu passi da la tv a cellulare cellulare tv buon natale a cellulare tv sei pronta nonna aspetta 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 fai nonna bisnonna be cominciamo non sa giocare di spiagge quel giogetto che facevo io così no devi far pianto vai 83 83 83 o vecchio o malatimpie o malatimpie ho fatto ambo ambo io l'ho vinto troppo 60! terno! no, non è vero, non è vero è stato sterne auguri a tutti gli sterne li stiamo andando da mio nonno a terra cina e poi dobbiamo scappare perchè lì sei lavoro e la cucina li li gli hanno regalato ma si apre il forno apri il forno per favore apri un po' il forno eh? che c'abbiamo qua il lavandino c'ha pure il caffè la macchinetta del caffè fantastico guarda quante cose bella ciao 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 ciao